Che cos'è l'amore? Diceva Massimo Troisi una cosa troppo bella, no? Diceva l'amore che cos'è? E' quando due persone, uno sta da una parte, l'altro sta dall'altra e gli sconosciuti si accorgono che si amano. Secondo me il senso dell'amore è questo, no? E' quando si percepisce nell'aria che quelle due persone insieme brillano, no? Quando tutte e due formano questa luce unica che li rende speciali. Ci sta una poesia che a me piace troppo assai, che secondo me racchiude il senso dell'amore, no? E che dice, io non ho bisogno di te, io non morirò senza di te, tu andrai avanti come andrò avanti io, però scelgo la libertà di ogni mio giorno rispettando la tua. L'amore è questo, secondo me, è una cosa molto semplice, non è una cosa così complicata. Siamo un unico che facciamo complicato perché teniamo tutto questo bagaglio di traumi, di sofferenze che giustamente non ci fa essere liciti. C'è uno concetto molto bello che da poco ho studiato che si chiama intelligenza emotiva, no? Applicata di solito sul lavoro, però secondo me si può applicare pur nella vita. Cos'è l'intelligenza emotiva? L'intelligenza emotiva è sapere riconoscere le proprie emozioni e agire di conseguenza. Molte volte magari quando noi abbiamo una delusione, no? Pensiamo di essere arrabbiati e non ci rendiamo conto che in realtà è una delusione. Quindi agiamo con rabbia, ma in realtà bisognerebbe solo ascoltarsi un po'. Quindi il discorso è molto diverso. Quindi anche secondo me nei rapporti con l'altra persona, soprattutto quando tu dietro ti porti tutta questa valanga di sofferenza, questa valanga di delusioni, non è facile distinguere un sentimento dall'altro. Detto questo da Gitte già che io non so professoressa ma sono allunna di vita. Però ti posso dire secondo me che cosa è l'amore? Il mio personale pensiero. L'amore è una cosa semplice. L'amore è quando tu con quella persona riesci a essere te stesso, senza fingere, senza dover dimostrare niente. Quando tu con quella persona ci ridi come se fossi un bambino di tre anni e ci piangi in ugual modo perché non hai paura di esprimere i tuoi sentimenti. Quando tu con quella persona hai voglia di vederci, di starci insieme, quando tu con quella persona la vuoi sentire, la vuoi vedere, ma non per bisogno. Non per bisogno perché noi non dobbiamo avere bisogno di nessuno. Altrimenti potrebbe starci chiunque a quel posto. E' proprio per un fatto di mancanza, nel senso che ti manca vedere quella persona perché tu puoi avere solo a kill, puoi avere solo a kill. E capi? E nessuno ha di più. E non è un bisogno, è una scelta, è uno scegliere con chi si vuole provare delle emozioni. Il fatto dell'anima è che questo è un discorso che va molto appresso perché nell'anima tu ci arrivi quando già hai dato la testa, in primis, hai dato il cuore, hai dato la tua fisicità e poi dopo con calma ci dai l'anima. E ma l'anima è uno steppo molto duro. Come si fa per andare incontro all'altro? Niente, bisognerebbe lasciarsi andare, ma se noi siamo pieni di delusioni è che sta cosa è difficile assai. Per me a noi due cose ci hanno inguaiata, le donne, le favole, sul fatto che il principe azzurro ci arrivano a salvare, ci ha acceso proprio. E il fatto che gli uomini invece cercano sempre sta principessa, quindi cercano un batticuore e farfalle, ma che è l'infatuazione, l'amore è nata cosa. Buona vita.